un premio ricordo di questa serata un premio di inolossimenza Alino Rossi Alino Rossi Milano grazie a tutti mi piace pensare che è stato veramente così che questa serata è stato un riconoscimento per quello che anch'io ho fatto per il dialetto meneghino lo dico con la modesta è conscia di essere in un tempio del milanese che è nato un benato al nostro pianeta comunque spero che questa manifestazione continui nel tempo per portare ancora la voce di Milano tra i milanesi lo strano è questo che ormai è meglio portare le voci di milanesi a Milano perché viene poco ho finito grazie grazie a tutti grazie a tutti